Pordenone si è candidato ufficialmente a Capitale Italiana della Cultura per il 2027. Il viaggio è cominciato, partecipa anche tu. Dal 25 al 27 giugno all'ex convento di San Francesco potrai formulare proposte, idee e suggerimenti progettuali. Pordenone scrive la candidatura. Tre giorni dedicati alla coprogettazione assieme a cittadini, associazioni, imprese e istituzioni. 25, 26 e 27 giugno a Pordenone. Iscriviti online su comune.pordenone.it slash capitale cultura